Mi rivolgo a voi in questa prima festa della Repubblica che celebro in Senegal. In questa cornice io desidero ringraziarvi alla presenza delle istituzioni senegalesi e dei partner dell'Ambasciata per il contributo che date quotidianamente alle ricche relazioni italo-senegalesi, al rispetto e alla reputazione dell'Italia all'estero. Grazie al vostro impegno nella società civile, nell'imprenditoria, nelle organizzazioni internazionali, nella cultura, nell'arte e in ogni altra vostra attività. Un saluto particolare ai nuovi italiani di origine senegalese e ai loro bambini che qui e in Italia incarnano in prima persona l'amicizia tra i nostri paesi. Ringrazio tutta l'equipe dell'Ambasciata d'Italia a Dakar per l'instancabile lavoro in tutti i settori di nostra competenza, così come saluto il personale dell'Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo, AICS. Auguri dunque a tutti voi in occasione della festa della Repubblica Italiana.